Uomini e donne oggi. Alice ha un attacco di panico. Federico preoccupato. Anticipazioni uomini e donne. Corteggiatrice lascia lo studio in lacrime. La reazione del tronista. Nuovo appuntamento con il talk dei sentimenti Mediaset che chiuderà la settimana con colpi di scena che riguarderanno sia il trono classico che over. Oggi in puntata si tornerà a parlare di Federico Nicotera e Carola. La corteggiatrice verrà messa alle strette e alla fine confesserà i suoi sentimenti per il tronista. Peccato che in studio nessuno le crederà e anche Maria De Filippi apparirà piuttosto scettica. Nonostante i mille dubbi, il bel romano deciderà di ballare con la bionda corteggiatrice. Durante il ballo però Alice avrà un attacco di panico e lascerà lo studio, seguita a ruota dal tronista. Il ragazzo infatti, dopo il ballo con Carola deciderà di andare dietro le quinte per parlare con lei e tranquillizzarla. Certo è che il clima sarà molto teso e le due spasimanti del 25enne romano inizieranno a mostrare segni di cedimento, tanto da chiedere che si arrivi finalmente alla scelta. Anticipazioni puntata 17 febbraio, Lavinia spiazza tutti. Il gesto per Alessio Corvino. Oggi a Uomini e Donne tornerà protagonista anche la tronista romana che sarà divisa tra i suoi due spasimanti. In particolare durante l'esterna con il corteggiatore partenopeo spiazzerà tutti con la richiesta di spegnere le telecamere per parlare di un argomento molto delicato. Le anticipazioni del programma di Canale 5, svelano che anche con il corteggiatore romano ci saranno però degli importanti passi in avanti, e in esterna tra i due scatterà un bacio appassionato. Chi sarà la scelta della tronista? Al momento l'indecisione sembrerebbe regnare sovrana. Ad animare la puntata questo venerdì nel salotto rosa di Canale 5, ci saranno però anche gli esponenti del trono over, e in particolare Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Uomini e donne. Anticipazioni puntata 17 febbraio. Armando Incarnato perde le staffe. Le anticipazioni del programma pomeridiano di Canale 5, svelano che Riccardo Guarnieri racconterà di aver deciso di voltare pagina dopo Gloria, e aver iniziato la conoscenza con Michela. Una nuova dama del parterre. Una notizia che farà saltare dalla sedia il cavaliere partenopeo. A quanto pare infatti il pugliese gli avrebbe soffiato la dama. Armando racconterà di aver iniziato a sentire Michela nelle scorse settimane, ma lei sarebbe scomparsa improvvisamente. Oggi in puntata il partenopeo si sentirà preso in giro nell'apprendere che la dama avrebbe iniziato una conoscenza parallela. L'appuntamento perciò con i colpi di scena dell'Il Dating Show di Canale 5, è per oggi pomeriggio. A partire dalle 14.45.